E' un mondo dominato dalla paura, dove i diritti umani indietreggiano in nome della sicurezza, quello che Human Rights Watch descrive nel suo tradizionale rapporto annuale. Radiografata dall'organismo internazionale la situazione in oltre 90 paesi, l'allarme terrorismo e la crescente xenofobia in Europa sono fra i punti principali della relazione presentata da Kenneth Roth. La crescente paura del terrorismo ha portato all'esplosione del fenomeno dell'islamofobia di cui i rifugiati e i migranti diventano il capro ispiatorio. L'islamofobia è la peggiore misura antiterrorismo che si possa immaginare, è naturalmente sbagliata in sé, ma è anche esattamente ciò che l'ISIL vuole. Se si chiedesse all'ISIL di indicare le circostanze migliori per fargli reclutare il numero massimo di volontari, ebbene la risposta sarebbe quella di dividere l'Europa, suscitando l'islamofobia e facendo sentire la popolazione musulmana sempre più isolata. Il direttore esecutivo di Human Rights Watch ha fatto la sua conferenza stampa da Istanbul e non ha potuto non esprimere preoccupazione per la deriva autoritaria del governo turco che secondo Roth sta soffocando l'opposizione, imbavagliando la stampa e minando l'indipendenza della magistratura. Grazie a tutti!